Buongiorno a te, grazie Signore, secondo la colonna della grande serie, numero caldo, complimenti per le vincite Poi signore, c'è il collega qui che parla da solo, va bene? Francesco, come ti senti? Grazie Buongiorno, grazie Buongiorno a te, grazie Buongiorno a te, grazie Buongiorno a te Tanti altri hanno reputato una fortuna Signore, a breve cambio di tele Buongiorno a te, grazie Ciao Luca, benvenuto Mazzocca, carissimo Un'unica vince al 35, nero, dispari alto, seconda colonna, terza, torgina, per la grande serie Ottimare vince ad altri due Signore, vi abbiamo una puntata buona fortuna Lo filo Agora abbiamo un rischetto Buonsendo il resto Buongiorno a te Buongiorno a te Presidente, signori Senero Pai Basso, terza colonna, prima dozzina, orfaneto, nomadocallo. Complimenti per le vici, eravamo le puntate per una fattura. Nulla o più, grazie. Samuele, benvenuto. Il cambio se n'è andato e non ritorna più. Nulla o più, questo è delicato, delicato, signori. Ora che vince, 13, nero, rispa di Basso, prima colonna, secolo, dozzina. Piccola serie, completi per le vincite, Antoninio, d'arte. Samuele, benvenuto. Un saluto fascista. Non la va più, grazie, signori, questo ce la fa, sì che ce la fa. Il numero vincente è quattro a 18, pari Basso, si è andata alla serattina degli orfanelli. Vediamo. Signori, ultima, insieme, ufficiale. Non la va più, grazie. Sono Simona, sarò il vostro dealer per la prossima sezione di gioco. Il numero vincente è il 20, nero, numero alto, pari, seconda dozzina, seconda colonna, appartenente alla famiglia degli orfanelli. Congratulazione ai vincitori, le puntate sono aperte. Prossimo swing. Non la va più, grazie. 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 Il numero vincente è il 30 rosso, numero alto, pari, terza dozzina, terza colonna, piccola serie, TR. Congratulazione ai vincitori, D'Artagnan, Suino, Liuni e gli altri vincitori. Le puntate sono nuovamente aperte. Ultime puntate, prima del prossimo spin. Puntate momentaneamente chiuse, buona fortuna. Prego, Liuni. E il numero vincente è il 5 rosso, numero basso, disfori, prima dozzina, seconda colonna, piccola serie, come richiesto da Liuni. Tiè. Congratulazione ai vincitori, le puntate sono aperte. Basta chiedere. Ultime puntate, signore, a breve il prossimo spin. Prossimo spin. Nulla va più, puntate momentaneamente chiuse. Ricordiamo i numeri freddi, che li so pure io. 15, 24, 30, 7, 1. E il numero vincente è il 18 rosso, numero basso, pari, seconda dozzina, terza colonna, guasando, 0, grande serie. Congratulazione ai vincitori, in particolare a Paci e G7, 5, che hanno rispettivamente puntato il numero pieno e il cavallo, giudicandosi 35, 17 volte la puntata. Ultima puntata, siamo per spinare. Nulla va più, puntate chiuse. E il numero vincente è il bellissimo 0, guasando. Che rientra fra i numeri caldi. Congratulazione ai numerosi vincitori di questa mano, che si sono aggiudicati 35 volte la puntata, vettando sul numero 0. Le puntate sono aperte, fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Puntate momentaneamente chiuse, buona fortuna. Ricordiamo che il numero che esce più spesso è il 2. E il numero vincente, per la felicità di Liuni, è l'11 nero. Prima dozzina, seconda colonna, piccola serie, tier. Congratulazioni ai vincitori. Le puntate sono aperte, fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Una va più, grazie. Di nuovo adesso. E il numero vincente, questa volta no, 9 rosso, numero basso, dispari. Prima dozzina, terza colonna, orfanello. Congratulazioni a Sissi, che ha puntato il numero 9 rosso. E a tutti gli altri vincitori. Puntate nuovamente aperte. Fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. E nulla va più, grazie. Buona fortuna. E il numero vincente, il 35 nero. Numero alto, dispari. Terza dozzina, seconda colonna, appartenente alla famiglia dei Guasano. Congratulazioni ai vincitori. Le puntate sono aperte. Fate il vostro gioco, prego. Benvenuti al tavolo a tutti i nuovi arrivati. Mauro, dai. Sigaro, 21. Prossimo spin. Non lo va più, grazie. E il numero vincente, il 3 rosso. Numero basso, dispari. Prima dozzina, terza colonna, zero spill. Sezione dei Guasano. Congratulazioni a chi ha vinto col numero 3 rosso. Pace, boss, suino, dal 98 e Sirisma. Le puntate sono nuovamente aperte. Fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Nulla va più, grazie, buona fortuna. Ricordiamo gli ultimi 5 numeri usciti. 3, 35, 9, 11, 0. Numero vincente, 2, nero. Numero basso, pari. Prima dozzina, seconda colonna, Guasano. Vedo numerosissimi vincitori in questo giro di ruota. Congratulazioni, signori. Le puntate sono nuovamente aperte. Piazzate le vostre scommesse. Prossimo spin. Nulla va più, grazie. Ripetizione, ripetizione, signori. Numero 2, nero. Pari, prima dozzina, seconda colonna, Guasano, 0. Vedo ancora più vincitori che poco fa. Bravissimi. Punta d'aperte. Punta d'aperte. Ricordiamo che il numero 2 è il numero che esce più spesso stasera. Prossimo spin. Punta d'aperte chiuse. Numeri caldi, 2, come avevamo capito. 4, 27, 0 e 28. Numero vincente, 30 rosso. Numero alto, pari, terza. Lozzina, terza colonna, piccola serie. Congratulazioni a tutti i vincitori. Congratulazioni all'Iuni, che si giudica 17 volte la puntata, giocando il cavallo del numero 30. Puntata aperte. Prossimo spin. E nulla va più, grazie. Puntate chiuse. All'Iuni. Il numero vincente è il 35 nero. Numero alto, disperi. Terza, lozzina, seconda colonna. Appartenente alla famiglia dei wasan. Congratulazioni a tutti i vincitori, soprattutto all'olo, benzo e suino. Che hanno puntato allo straight up del numero 35. Puntate aperte. Diamo il benvenuto al signor Tonno, 1979. Non mi piace la piccola serie. Prossimo spin. Puntate chiuse. Numero vincente è il 6 nero, numero basso pari, prima dozzina, terza colonna, orfanello. Congratulazioni a tutti i vincitori, che hanno vinto con il numero 6. Ti ricordiamo, rientra a fare 5 numeri più caldi. Ultime puntate, signori. Non mi devo fare più, grazie, buona fortuna. Numero vincente è il 9 rosso, numero basso dispari, prima dozzina, terza colonna. Numero appartenente alla famiglia degli orfanelli. Congratulazioni ai vincitori. Puntate aperte. Fate il passo al giorno, prego. Prossimo spin. Puntate chiuse, buona fortuna. No? 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 Non il numero vincente, questa volta il 22 nero, numero alto, pari, seconda dozzina, prima colonna, appartenente alle famiglie del Waysand of Zero, grande serie. Congratulazioni a tutti i vincitori. Le puntate sono nuovamente aperte, fate il vostro gioco, prego. e le puntate sono nuovamente aperte, fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. No? Non la va più, grazie, non state chiuse. Non la va più, grazie, non state chiuse. Seconda tozina, prima colonna, appartenente alla famiglia della piccola serie. Finalmente, congratulazioni ai vincitori, le puntate sono aperte. E ciù, diamo il benvenuto al tavolo ai nuovi arrivati. Ultime puntate. Prossimo spin. Non la va più, grazie. Numero vincente, zero, Guasau. Congratulazioni ai numerosissimi vincitori di questo spin. Bravissimi. Le puntate sono nuovamente aperte, ricordiamo i numeri freddi. 15, 24, 17, 7, 18. Prossimo spin. Nulla va più, grazie, buona fortuna. E il numero vincente è il 29 nero. Numero alto, disperi, terza tozina, seconda colonna, Guasau. Grande serie. Congratulazioni a Suino, Paccia, Nubi, D'Artagnan, Lollo, Benzina e tutti gli altri vincitori. Ultime scommesse. Prossimo spin. Nulla va più, grazie. Nulla va più, grazie. Buona fortuna. E il numero vincente è il 10 nero. Numero basso pari, prima tozina, prima colonna, piccola serie. tier, tier, con gratulazione, numerosi vincitori di questa mano. Le puntate sono nuovamente aperte, piazzate pure le vostre scommesse, prego. prossimo spin. Nulla va più, grazie. Il numero vincente è il 11 nero. Numero basso, disperi, prima tozina, seconda colonna, piccola serie. Congratulazioni a tutti i vincitori. Le puntate sono nuovamente aperte. e fate il vostro gioco, prego. Diamo benvenuto a tutti i nuovi visitatori. Prossimo spin. Un'altra va più, grazie. Pondate chiuse. Numero vincente è il 2 nero, numero basso pari, prima tozina, seconda colonna, guasano 0. Congratulazioni a pace, suina d'Artagnan, KG75. Tutti hanno puntato il numero 2 nero. Congratulazioni, le puntate sono nuovamente aperte. Ricordiamo gli ultimi 5, i numeri usciti sono i 2, 11, 10, 29 e 0. Ultime puntate, stiamo spinando. Nulla va più, grazie. Pondate chiuse, buona fortuna. E il numero vincente è il 16 rosso, numero basso pari, seconda tozina, prima colonna, appartenente alla famiglia della TR, piccola serie. Congratulazioni ai numerosi vincitori di questa mano. Le puntate sono nuovamente aperte. Piazzate pure le vostre scommesse. Prossimo spin. Nulla va più, grazie, buona fortuna. Allora, buon'ora. Un anno forte. Il fortunato numero di questo giro di ruota è il 10 nero, numero basso pari, prima dozzina, prima colonna, piccola serie per la felicità di Liuni. Le puntate sono nuovamente aperte. Piazzate pure le vostre scommesse. Buona fortuna a tutti. Prossimo spin. Nulla va più, grazie. Numero vincente è 34 rosso, numero alto pari, terza tozzina, prima colonna, orfanello. Congratulazioni a tutti i vincitori. Le puntate sono nuovamente aperte. Fate pure il vostro gioco, piazzate le vostre scommesse, prego. Prossimo spin. Voleva più, signori, buona fortuna. Numero vincente è 15 nero, numero basso rispari, seconda tozzina, terza colonna. Guasano siro, congratulazioni a pace, tre transi, no, tre transi, suino, ha ha ha, tiger q e tutti gli altri vincitori. Puntate nuovamente aperte. Prossimo spin. E puntate chiuse. Buona fortuna. Numero vincente è un meraviglioso 29 nero, numero alto dispari, terza tozzina, seconda colonna appartenente alla famiglia dei Guasano. Vedo numerosi vincitori in questo giro di ruota, congratulazioni. Le puntate sono nuovamente aperte, piazzate pure le vostre scommesse. Diamo il benvenuto a Turens. Prossimo spin. Nulla va più grazie. E il numero vincente è l'otto nero, numero basso pari, prima tozzina, seconda colonna, piccola serie. Congratulazioni numerosissimi vincitori di questo giro di ruota. Le puntate sono riaperte, la ruota non si ferma. Fate il vostro gioco, prego. Diamo il benvenuto al tavolo a Dali, a Ruda e Dali98. Prossimo spin. Puntate chiuse, grazie, buona fortuna. Numero vincente è 17 nero, numero basso dispari, seconda tozzina, seconda colonna, orfanello. Congratulazioni a tutti i vincitori, sui Novigili, Xanax, D'Artagnan, Tetranzi, Baby Blonde. Le puntate sono nuovamente aperte, signori, piazzate le vostre scommesse. Ultime puntate. Non la va più. Numero vincente è 11 nero, numero basso dispari. Prima tozzina, seconda colonna, appartenente alla famiglia della piccola serie, T.E. Congratulazioni a Dali, Vigili, AK, Lolo Benza, Sirisma, che mi punta le outsiders. Le puntate sono nuovamente aperte, a brevissimo ci sarà il prossimo spin. Come promesso, prossimo spin. Nulla va più, grazie, puntate chiuse. Ultimi numeri usciti tutti di colore nero. Il numero vincente è 3 rosso, numero basso dispari. Prima tozzina, terza colonna, zero spiel, vicino dello zero. Congratulazioni a tutti i vincitori. Le puntate sono nuovamente aperte. Piazzate le vostre scommesse, prego. Prossimo spin. Nulla va più, grazie, buona fortuna. Numero vincente, 36 rosso. Numero alto, pari, terza lusina, terza colonna, piccola serie, T.E. Congratulazione da lì, che si giudica 35 volte la puntata. Fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Una fortuna. Nulla va più, grazie, puntate chiuse. Il numero vincente è il 14 rosso, numero basso, pari, seconda tozzina, seconda colonna, appartenente alla famiglia degli orfanelli. Congratulazione a chi ha vinto con l'orfanello numero 14, colore rosso. Le puntate sono aperte, signori, ricordiamo i numeri freddi, 15, 24, 7, 17 e 18. Ultime puntate, le puntate stavano per chiudersi. Puntate chiuse, grazie. Il numero vincente è il 28 nero, numero alto, pari, terza dozzina, prima colonna, un esaltusirò, grande serie. Congratulazione ai numerosi vincitori di questa mano. Piazzate pure le vostre scommesse, intanto vi ricordo che i numeri che sono usciti più spesso negli ultimi 500 spino sono il 2, lo 0, il 4, il 6 e il 28. Puntate chiuse, grazie, buona fortuna. Il numero vincente è il 24 nero, numero alto, pari, seconda dozzina, terza colonna, piccola serie. Le puntate sono aperte, signori. Congratulazione a tutti i vincitori di questo giro di ruota. E buona fortuna a tutti per il prossimo spin. Non va più, grazie. Buona fortuna. Sì, quando non è troppo, però. Il numero vincente è il 26 nero, numero alto, pari, terza dozzina, seconda colonna, piccola serie. Uuuuh, numerosissimi vincitori in questo giro di ruota, congratulazioni. Il 26 nero porta fortuna. Fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Puntate chiuse. Numero vincente è il 26 nero, numero basso, pari, seconda dozzina, prima colonna, piccola serie, tier. Congratulazioni, come sempre, a tutti i vincitori. Signore, vi comunico che a breve cambierà il vostro giro. Ultimi spin insieme. Ultime puntate. Le puntate sono chiuse. Abbiamo un fantastico 34 rosso, numero alto, pari, terza dozzina, prima colonna, orfanello. Gratulazioni a Pinus, che vince, giudicandosi 35 volte la puntata, con il numero 34 rosso. Puntate aperte, diamo il benvenuto al tavolo a tutti i nuovi arrivati. Prossimo spin. Più le puntate, buona fortuna. Numero vincente è il 2 nero. È il numero che esce più spesso. Odientra a fare al primo posto, tra i primi 5 numeri più caldi. Numero basso, pari, prima dozzina, seconda colonna, wasan, wasiro. Congratulazioni a chi ha vinto con il numero nero e le puntate sono nuovamente aperte. Fate il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Nulla va più, grazie. Buona fortuna. Il numero vincente è il 19 rosso. Numero alto, dispari, seconda dozzina, prima colonna, grande serie. Wasando Siro, congratulazioni a chi ha vincitore. In particolare a Tecranzi, perché punta il numero pieno e vince più degli altri. Le puntate sono aperte. Ultime puntate, stiamo per spinare. Adesso le puntate sono chiusi. Buona fortuna. Il numero vincente è il 25 rosso. Numero alto, dispari, terza dozzina, prima colonna, wasando Siro, grande serie. Congratulazioni a tutti i vincitori. Signori, si riavrono le puntate. Fate pure il vostro gioco, prego. Prossimo spin. Nulla va più. Buona fortuna. Numero vincente è 2 nero. Numero basso, pari, prima dozzina, seconda colonna, wasando Siro, grande serie. Congratulazioni a D'Artagnan, a Tecranzi, a K, a Suino, a Lolo Benz, a Iovo 345. Tutti hanno puntato il numero più caldo, giudicandosi la vittoria. Ultime puntate, signori, vi comunico che questo è il mio ultimo sfido, perché cambia il dealer. Buona fortuna. Nulla va più, grazie. E magari la pensione, vediamo che ci arriviamo. E poi, moriamo prima. Signori, siete d'accordo che moriamo prima della pensione? La mia cara collega, vi lascio con il primo della TR5 Rosso. Se trovo la mano... E si comincia dalle 11. Difatti, ho cominciato dalle 11. Sto bene, sto bene io. Solo ho un po' di dolorino alla spalla, dovuto un'importunio, però, giusto a posto. 2, 24, 31, 100. 28. Nero, il numero caldo della vazzanna, 15 vincitori, un 4, 7. Che ore sono? Ti vedo più carico, ti vedo carico. Io sono sempre carico, Massi. Sono sempre carico. Allora, che ore sono qua a Malta? Beh, dovuto al fuso orario, che tu sei in Italia, noi siamo a Malta, nell'emisfero sud della zona, sono l'1,25, uguale in Italia. Uguale, è preciso. 6, 28, 6, 8, 18, 50, 100. 16. Rosso, 19, 20, 30, 1, per la sera. Certo, certo. Maolo. Se vieni a Malta, sì. A Malta si fuma. A Malta si fuma, si beve, si balla, si canta. Tutto, tutto ciò che puoi fare in altre parti del mondo, le puoi fare anche qua, non vi preoccupate. Non è un altro paese dove, diciamo, c'è chissà che. 4, 100. 13, nero. Io non pensavo a nulla. Tu cosa pensavi, Jackie? Io non pensavo proprio a nulla. Anzi, io neanche fumo, quindi immagina. Comunque, se vieni a Malta puoi giocare a casino. Sì, certo che puoi giocare a casino. A meno che non sei un delinquente, un pregiudicato, un ergassolano appena uscito dal carcere, un ladro, un truffatore, un hacker, un cheater. Cioè, se non sei uno di queste persone, allora puoi giocare. 2, 13, 50, 100. 34, rosso. 11 vincitori, congratulazioni. E se hai una denuncia per... Eh, questi sono problemi tuoi, non lo so io. Se hai una denuncia... Beh, loro non è che ti controllano la ferita penale, però... Se questa denuncia, tu hai qualche wonder, qualche bounty sulla tua testa, qualche taglia sulla tua testa, allora sì. 0, 31, 34, 100 come moltiplicatore. Renta, rosso. Guarda, già solo per il fatto che tu abbia un account e stai scrivendo in una chat dove tu hai dovuto inserire i tuoi dati, sicuramente ciò che mi stai dicendo è una bugia totale, ovviamente. Perché se tu hai precedenti o qualcosa che intacca la tua persona ed abbia la ferita penale sporca, tu non puoi neanche collegarti, neanche creare un account vero, veritiero, senza aver dato dati falsi in un account qui con noi. 5, 25, 28, 50, 100. 9, rosso. E comunque, io non le so le regole che hanno i casino qui a Malta, onestamente. Allora questa storia sarei lì, mi fa piacere. Un attimo solo, che guardo un attimo in giro. Ah no, scusami, stavo guardando il mio interesse del fatto che tu in estate verrai qua. Non l'ho trovato, mi dispiace, Mauro. Non ho trovato l'interesse che avevo sul fatto che tu verrai qui in estate. Però va bene, grazie per averlo fatto. Non ti sguiremo. 16, 28, 32, 500. 1, rosso, orfanello, numero freddo, 11 vincitori. Per chi si sia sintonizzato solo adesso, informo a tutti che Mauro in estate sarà qui a Malta. Va bene, lo notifico a tutti. Inoltre, lo dico anche al notaio. Il notaio, per favore, rettifichi questa cosa. Mauro in estate sarà qui con noi. O almeno a Malta, poi non lo so. 17, 50 come moltiplicatore. 10, nero. 11, vincitori, congratulazioni. Tra quanto il cambio presentatore. Beh, sono appena arrivato. Amosca, sono appena arrivato. Sono appena arrivato. Se non ti piace il modo mio di presentare o il presentatore in sé, sei pregato di poter cambiare tranquillamente stanza, se non ti piaccio. Poi sarà una domanda solo così, di seriosità. 20 di 29, 50, 100. 8, nero. 10 in città. Riemi a tracciare. Potremmo dire piace. Come vuoi, Giacchi, come vuoi. No, a me onestamente mi fanno sorridere queste persone che fanno domande inutili e a dir poco senza senso. Perché non ha senso. Tu è come se entri ad un bar e dici Scusi, non chiedi niente. Scusi, il barrista quando cambia. Cosa c'entra? 1, 3, 12, 12, 150. Sei nero. Orfanello. Numero freddo. 8 vincitori. Come provazione? Neanche buonasera. Come stai? Chi sei? Dove sei? Quando? Perché? Mi presento. Così, la maleducazione assoluta. La maleducazione assoluta. Si entra in una stanza dove si dovrebbe salutare in primis Perché per educazione chi arriva saluta No Si chiede quando te ne vai Fattene tu 14, 35, 100, 200 35, nero, numero lampo Con un moltiplicatore da 100 Io ho preso in giro qualcuno Guarda, se tu appena entrato in una chat Dove ci sono delle scritte E tu leggi le ultime riscritte E non sai neanche la conversazione Quindi sei pregato a non A non deturre Né tantomeno alludere a cose che tu neanche conosci Perché se avessi seguito la conversazione fin dall'inizio Avresti capito che voleva trollarmi questa persona Perciò la mia di sternatura stava benissimo 3, 4, 26, 35, 100, 150 17, nero Giechi Sono siciliano Siciliano Sei pesantuccio, eh Presenta e basta Oh, va bene, va bene Tavito, Tavito Mi sa che voi avete la presunzione di pensare Di essere persone che abbiano il diritto di dire ciò che vogliono e come vogliono Solo perché sono dietro da uno schermo Ed hanno una tastiera E quindi protetti da questa cosa 1, 23, 28, 50, 100 16, rosso Quanto sono buone le biosce col genato Buonissime, buonissime Grazie Alberto, grazie Sono buonissime Soprattutto se gli metti il pistacchio e la nocciola Fantastiche Sì, difatti se voi vedete come sono vestito La mia uniforme Sembra tanto come un domatore di leone Quindi io sono più un domatore di leoni da tastiera 10, 27, 100 24, Nero Ah, se tu pensi che il casino dovrebbe trasmettere tranquillità Quindi non hai capito proprio niente del casino Però va bene, ok Ognuno pensi ciò che vuole Delle cose che vuole Ovviamente Io trasmetto ansia Come ho detto prima Se qualcuno non piace la mia compagnia Liberissimo di andarsene per mezz'ora E poi ritornare Quando non ci sono Voi siete liberi Io invece devo stare qua per mezz'ora Quindi Adios 1, 8, 20, 29 1, 300 30, rosso Devi smettere di giocare Per me vuoi giocare Solo non dire cose senza senso In una chat dove neanche sai di cosa stiamo parlando Tutto qua Eh fammi prendere un lampo Vediamo se escono Smetti di essere così polemico Se tu la smetti di dire di ozie Forse la smetterò anch'io di essere polemico 9, 20, 27, 100 2, nero 15 vincitori Congratulazioni Per me ch heavily Per me chiede